Il 20 marzo il Mino Romagna è stata una forte scossa, è causato 17 morti e molti terribili. Allora abbiamo deciso che noi abbiamo fatto fanno di fare una casa di scatoli per vedere cosa succede veramente il Mino Romagna. Abbiamo messo dietro un po' di giocato il Mino, di fare un po' di scatoli e un po' di giocato per andare per andare per andare. Ehi, 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 e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.